Vista in Salute è un progetto finanziato dal Ministero della Sanità nel 2019. Il 2019 ha già fatto il tour di alcune regioni italiane, ha avuto lo stop lo scorso anno e quest'anno abbiamo riniziato. Siamo nelle Marche, abbiamo fatto tre province, Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro da domani. Vista in Salute ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni rispetto a quelle che sono le tre patologie più importanti dell'età adulta, dopo i 40 anni, retinopatia diabetica, maculopatie e glaucoma. Sono patologie che la prevenzione e la diagnosi precoce fanno veramente la differenza, cioè assolutamente la differenza tra non diventare cieco, magari avere problemi grossi di ipovisione, qualche volta come glaucoma fermare la patologia per cui comunque conservare la vista quasi normalmente. Però queste tre patologie, la differenza vera tra fare la prevenzione e non farla vuol dire forse in qualche caso diventare anche cieco. Facevo l'esempio prima, una cosa velocissima, noi facciamo alcune attività nei paesi in via di sviluppo, in Africa, dove queste tre patologie evidentemente non si può approcciare una cura come tante altre. Queste tre patologie in Africa vuol dire cecità quasi sicura. Glaucoma è la seconda causa delle cecità in Africa, maculopatie e retinopatia diabetica sono poco prese in considerazione perché poi è impossibile fare nulla. Però sono tre patologie e si diventa cieche, quindi pensate quanto fa la differenza e il messaggio che vogliamo lanciare anche alle istituzioni sanitarie è questo, di mettere in atto tutta una serie di programmi che possono permettere di velocizzare la diagnostica perché patologie come queste, come la maculopatia, alcune settimane possono fare veramente la differenza. Oggi è possibile non diventare ciechi, è possibile veramente conservarla alla vista. Noi il messaggio che vogliamo dare come agenzia internazionale di prevenzione della cecità di ognuno italiana ciechi è proprio questo. La vista è un bene prezioso, personale, ma è anche un problema sociale. Diventare ciechi è un costo anche sociale importante, oltre a un dramma e soprattutto un dramma personale. All'interno del track proponiamo degli strumenti di ultima generazione per la diagnosi precoce di malattie come maculopatia, retinopatia e glaucoma. Nello specifico abbiamo a disposizione uno CT che è uno strumento che permette di effettuare una fotografia della retina e del nervo ottico che è fondamentale proprio per vedere se c'è una degenerazione precoce in un paziente in cui ovviamente i sintomi non sono ancora presenti né dal punto di vista visivo né dal punto di vista campimetrico. Abbiamo poi il tonometro per la misurazione della pressione che ci interessa prevalentemente per la prevenzione del glaucoma per l'appunto che è una delle prime cause di cecità e ipovisione a livello mondiale nonché ovviamente sul territorio ascolano. Un ultimo strumento che stiamo sperimentando qui sul track è il visore che è uno strumento che propone in realtà virtuale degli esami come il campo visivo, l'AMSLER test, la sensibilità al contrasto e altri che vengono fatti in maniera molto più rapida rispetto agli ambulatori ed essendo in realtà virtuale ovviamente il paziente li esegue anche con più piacere sono più in un certo senso divertenti.